A Che Cose Tenerife oggi parliamo di Frisbee, andiamo dal nostro amico che, oh eccoci, ciao ciao a tutti, il nostro amico, io sono Fabio Percario, sono di Milano, sono da due mesi qua, dopo un'altra esperienza, tre anni fa, solo di Frisbee, ho stato qua sei mesi, voglio comunicare a tutti, se volete venire a imparare, soprattutto ai ragazzi più piccoli, medie età, scuole medie, prime superiori, che tipo di Frisbee è questo? Questo è un Frisbee molto leggero, un Frisbee molto leggero, che arriva dall'America, ci sono sopra le istruzioni, bene, praticamente giochiamo contro il vento, possiamo giocare sia da soli che in compagnia, fantastico, lo scopo è divertirsi, io adesso io e te proviamo a divertirci, esatto insieme, sicuramente ti insegno, però ripeto soprattutto, è aperto a tutti, però è dedicato soprattutto a chi è più piccolo, a chi ha voglia di giocare, come avete visto possiamo usare qualsiasi parte del corpo, siamo in spiaggia, dove ci possiamo trovare? Noi possiamo incontrarci, io solitamente sono qua alla spiaggia, in questa spiaggia dove ci troviamo davanti, che qui era la spiaggia di Troia, se no è molto più bello a giocare perché c'è un vento più favorevole alla spaglia di Fagnabè, perfetto, perfetto, allora per tutti gli amici che vogliono imparare e hanno bambini che vogliono imparare il... questo è un frisbee, diciamo un frisbee freestyle, l'attrezzo si chiama whiz ring, perché whiz è un whiz, è un rumore americano e ring è un cerchio, ma ci sono i segreti da imparare? Il segreto, l'unico segreto che c'è è come un elicottero, perché più gira e più rimane in sospensione, se gira poco il frisbee cade, se invece gira tantissimo qua sotto, si crea come... con l'aria, rimane in sospensione e ci possiamo divertire, perfetto, poi la cosa più importante è leggero, in spiaggia, anche se ti viene addosso non ti fa male, questo è importante, la sicurezza è molto importante, esatto, la cosa più importante, allora io vado a provare con lui, ci vediamo tra un attimo, ok, ciao, ciao, guarda qua che bel vento che c'è, ohhhh, tre colpi... Tenerife, io sono morto, ci vediamo alla prossima puntata e sotto il video scriveremo gli appuntamenti del nuovo frisbee a Tenerife, ciao, ci vediamo, hasta luego, hasta pronto.